Qualsiasi cosa farò si ritorcerà su di te e sulla mamma. E io non voglio. Dagli ultimi Hunger Games, qualcosa è cambiato. Lo vedo. Che cosa vedi? Speranza. Ci hai salvati. Lo so. Ma sono stanco di recitare per le telecamere e poi ignorarci nella vita reale. Lei non è quello che credono. Deve essere eliminata. Certo, ma nel modo giusto. Al momento giusto. Dobbiamo andare. Prima che ci uccidano. Perché ci uccideranno. La gente vuole lottare. Io resto qui. Lei si è battuta molto bene negli Hunger Games. Ma erano giochi. Le piacerebbe una guerra vera. Migliaia di vittime fra la sua gente. I suoi cari. Morti. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Questo è il 75esimo anno degli Hunger Games. I tributi saranno scelti tra i vincitori ancora in vita. Cosa faccio io? Credo che questi giochi saranno diversi. i 75esimi vittime. Pronti a lavorare? Capisciati, la ragazza di fuoco! Dimenticate quello che credete di sapere sugli Hunger Games. L'anno scorso è stato facile. Stavolta avrete di fronte tutti assassini esperti. Un ultimo consiglio. Resta vita. Ricorda chi è il vero nemico. Resta vita. Resta vita. Ricorda chi è il vero nemico. Ricorda chi è il vero nemico. Ricorda chi è il vero nemico.